Musica Questa settimana il venerdì dal sindaco fa tappa a Val della Torre, siamo con il sindaco Carlo Tappero, siamo alle porte di Torino, mezz'ora da auto da Torino, ma siamo nella valle Casternone, siamo in un ambiente naturale che ha invogliato molti torinesi oppure originari di Val della Torre a tornare in questo paese e a vivere. Non ci sono più tante seconde case, ci sono prime case qua a Val della Torre. Sì, innanzitutto benvenuti a Val della Torre, grazie di essere venuti a farci visita. Sì, come diceva lei, Val della Torre è diventato un paese che ormai abbiamo 4.000 abitanti. Come accennava, quelle che erano le seconde case degli anni Ottanta della villeggiatura della Torino, oggi sono diventate, sono state ristrutturate e sono diventate prime case. Quindi un posto dove per fortuna ci permette anche la parte morfologica della valle, è una valle chiusa, la strada finisce qua, non c'è uno sbocco. Quindi chi vuole venire a Val della Torre ci deve venire apposta, chi ci vive lo sceglie per la tranquillità del posto, del luogo, ma come giustamente diceva a mezz'ora di strada siamo in centro Torino. Il vantaggio è che viviamo in un posto immerso al verde dove uscendo di casa prendiamo un sentiero, camminando in un'oretta, siamo sulle nostre creste, abbiamo un decollo per il parapendio, quindi ci sono parecchie attività, dei bellissimi sentieri per fare mountain bike, outdoor, dove incontriamo una natura ancora interessante perché possiamo incontrare i camoci, i caprioli, i cinghiali che in qualche caso danno anche disturbo agli agricoltori, quindi è un problema come sempre da dover gestire. Un territorio tutto da vivere e quindi c'è anche del turismo, non solo residenti che amano l'outdoor ma torinesi che vengono a passare del tempo libero qua. Sicuramente sì, abbiamo degli ottimi sentieri, come diceva lei, c'è il sentiero per la croce di Musinè dove c'è un sentiero che parte proprio da Val della Torre, quello più conosciuto ovviamente è quello di Casellette, ma sul nostro versante partendo da Borgataverna abbiamo un sentiero che arriva direttamente alla cima di Musinè. Noi pratichiamo una volta all'anno la maratona alpina che parte proprio da Val della Torre e arrivava a Val della Torre facendo tutta la cresta della nostra valle, dei bellissimi percorsi grazie all'Unione Montana, abbiamo ristrutturato due anelli per la mountain bike e quindi sono percorrì, sono inseriti, sono censiti sui siti per poterli fare, c'è la possibilità di vivere anche la parte enogastronomica del paese. Come si vive a Val della Torre? Diciamo che ci vive a Val della Torre sono due tipologie di persone, quello che ha scelto Val della Torre per staccare la spina dalla parte lavorativa, magari di Torino, della città e quindi vuole venire qua a vivere serenamente, quindi dorme a Val della Torre praticamente, lo vive poco socialmente e c'è una buona parte, un'altra parte della popolazione che invece è integrata nelle varie associazioni, ci sono attività sportive, quindi chi vuole integrarsi a tutte le possibilità sia sul sociale che sullo sport e culturale per poterlo fare, chi invece vuole stare in santa pace nella sua villetta, farsi il barbecue la domenica lo può fare altrettanto. Chi lavora a Torino o i ragazzi che studiano a Rivoli piuttosto che a Torino hanno dei servizi di trasporto soddisfacenti per questa comunità? È un tasto dolente, soddisfacenti il minimo, nel senso che sì, c'è il Puma che ce li porta ad Alpignano per chi deve prendere il treno per andare a Torino o va su al Castello per quanto riguarda la parte del liceo piuttosto che del Romero. Però poi tolto il necessario, se vogliamo, della parte scolastica, se andiamo a vedere la parte ludica, se un ragazzo vuole andare giù il sabato pomeriggio in Torino, se non è accompagnato questa cosa viene a meno. Quanta passione ci vuole per fare il sindaco del proprio paese e la consiglierebbe un'esperienza come questa ai suoi concittadini? Sì, lo consiglierai, lo consiglierai assolutamente. Anzi, sarebbe molto utile per il senso civico delle persone, perché io vi assicuro che quando sei da questa parte della scrivania inizi a vedere i servizi, inizi a vedere le attività, quello che si svolge con un altro occhio. Conoscere cosa c'è dietro a un servizio, conoscere cosa c'è dietro a coprire una buca, conoscere cosa c'è dietro a illuminare un punto luce in una strada, sapere cosa sono i servizi sanitari e le difficoltà e quello che occorre per poterli avere, a volte sarebbe importante poterlo trasmettere, perché se uno lo vive all'interno ne comprende sicuramente meglio il funzionamento, ma soprattutto ne apprezza molto di più di valore. Grazie per la visione!